Bel Sito Hotel Le Due Turri A mano calzati A circa 200 metri dall'uscita Avellino Est Della Napoli Bari www.belsitoteldueturri.it La ZTL come zona che limita il traffico Ma anche lo shopping Come denunciano i commercianti di Via Dante e Via Zigarelli Da quando è scattato il provvedimento Il calo delle vendite è stato vertiginoso Avvertono gli esercenti Questa mattina la rabbia dei commercianti di Via Zigarelli Che si dicono ormai prigionieri In una gabbia Ancora caos totale proprio A danno ovviamente delle attività commerciali Che purtroppo hanno risentito un calo In questo periodo di prova Del stato del mese di febbraio Quando ci ha perso ieri? Sì, tanto Tanto veramente Che la gente comunque era abituata A una cosa veloce Per quanto riguarda la mia attività Ma io non parlo solo per me Ma anche per le altre attività Almeno un 30% in meno Un 40% in meno Rispetto a... Stamattina poi ha ricevuto il colpo di grazia Il colpo di grazia Che praticamente Mettono addirittura la striscia Per il carico e scarico Davanti alle vetrine delle attività E quindi di conseguenza Diciamo ci oscurano pure Eccetera eccetera Insomma Nella situazione che è insonsenibile L'amministrazione deve rendersi conto Che queste cose insomma Vanno fatte in un certo modo Potevano... Qua è una ZTL Una traversa che poteva tranquillamente Avere diciamo la telecamera Posizionata sul corso E quella è la zona che si deve preservare Se vogliamo dire preservare Perché se parliamo di preservare Parliamo di monumenti Parliamo di... Anche di inquinamento Che non abbiamo questa sorta L'inquinamento totalmente forte Eccetera Quindi voglio dire Insomma le ZTL Fino a un certo punto Ad Avellino Comunque Vogliono fare la ZTL Bisogna fare le infrastrutture Prima ci mettiamo all'interno Della striscia Le infrastrutture Vanno fatte in un certo modo Prima i parcheggi E poi le ZTL Questo è il discorso Perché uno che deve venire Un attimo a... Dove parcheggia? È impossibile Perché il corso Roba è sempre indasata È dappertutto Cioè uno non può Venire ad Avellino Non sa dove mettere la macchina Sopensamente i forestieri Ma poi ho notato La cosa più inquietante In questo periodo Della prova della ZTL La gente ignara Perché poi quel pannello Si vede, non si vede E non si capisce Attivo, non attivo Entra, entra, entra Qua si parla di 80 euro a verbale Non so se rendo l'idea